Ciao amici, benvenuti a questa puntata di Valdo TV 361, una puntata in diretta Facebook che oggi vedrà come spettatore ospite il nostro Giramondo. Siamo oggi qui in compagnia con il nostro amico Flavio De Zorzi per gli amici Snorky che ci racconterà il suo viaggio Italia-Giappone. Ma allora partiamo subito, intanto dici quanti anni hai, da dove vieni e soprattutto cosa hai fatto di così speciale. Salve amici di Valdo TV, io mi chiamo Flavio De Zorzi, detto Snorky per gli amici, io ho 30 anni, vivo nelle vicinanze di Feltre e come professione sono diventato un esploratore di mondo. Sto girando il mondo con il mio mezzo, la mia Fiat Panda datata e sto alla ricerca di nuove civiltà, nuovi mondi e recentemente ho fatto un viaggio Italia-Giappone via terra a bordo della mia macchina. In solitaria attraversando due continenti, nove stati, otto fusi orari e 16.000 km di viaggio. Ma come è nata questa idea di questo non consueto viaggio e soprattutto perché in Panda è magari non con un altro mezzo più confortevole? Ma diciamo che la Panda è l'unico mezzo che ho potuto trovare con pochi soldi, pagata a 500 euro. È un mezzo molto robusto, molto affidabile, anche se l'apparenza a certe volte inganna. Per poter viaggiare, esplorare il mondo senza avere difficoltà con il gasolio, con diversi problemi che possono nascere durante un viaggio molto duro, soprattutto come quando ho attraversato la Siberia per arrivare in Giappone. E come mai la meta scelta è stata proprio il Giappone? Ma diciamo che il Giappone, guardando il mappo mondo, perché io guardo il mappo mondo per tracciare i miei itinerari, il Giappone era il viaggio più lungo che si poteva fare quasi tutto via terra, il viaggio più lungo al mondo via terra, poche parole. Sappiamo che hai creato anche un filmato dove ci racconti della tua avventura e allora adesso ne vediamo un pezzetto tutti insieme. Faccio il pieno di benzina e parto. Il conto alla rovescia è già iniziato. Una corsa contro il tempo. 4200 chilometri di vie siberiane sono moltissimi, ma la sfida ormai è un obbligo. Non voglio abbandonare ora. Non voglio. E ci provo. Ora si fa sul serio. Lasciando la città di Irkusk, mi addentro sulla strada del Baikala. E sulle sue ripide montagne. Tornanti che costeggiano questo immenso lago, che sembra non finire mai. Non mancano i cantieri. Si notano incidenti di camion rovesciati, di fuoristrada, ma questa vista, che denota l'ostilità dei luoghi che incontro, viene compensata da una panoramica mozzafiato, che scorgo scendendo dai tornanti, mostrandomi la vastità del lago Baikal. Questo filmato che abbiamo appena visto, stavo percorrendo le strade del lago Baikal. E come avete ascoltato anche la voce narrante, assieme a un mio caro amico, attore doppiatore italiano, abbiamo creato una sorta di film. Perché durante i miei viaggi voglio far sì che i miei occhi diventino gli occhi di tutti. Molte persone non possono spesso viaggiare per vari motivi. E con questo io voglio portare le persone a viaggiare, a esplorare il mondo. Così, stando comandatamente a casa, su un divano, su una sedia, davanti a un computer, possono vedere le mie avventure nel mondo, dove spiego come è fatto il pianeta e si fanno una cultura e hanno un'occasione di viaggiare comandatamente da casa, che è una cosa che ha molto interesse, che molte persone mi seguono molto volentieri. A tuttora ho circa 40.000 follower giornalieri che mi seguono durante i viaggi. È veramente bello. E allora un'altra domanda che mi sorge spontanea, ci sorge spontanea. Aver fatto il viaggio da solo è stata una tua scelta oppure perché non hai trovato nessuno che volesse accompagnarti? Ma diciamo che viaggiare da soli ha un altro metodo, perché specifichiamo subito una cosa. Viaggiare non significa fare una vacanza, perché una vacanza significa fare una valigia, andare al mare, andare in montagna, in un hotel o quant'altro. Io vivo l'avventura e viaggiare e vacanza le tengo due cose pienamente separate. Quindi ho voluto assaporare di più il pianeta viaggiando da solo, perché solo da solo riesco a capire la realtà di fatti, del mondo, riesco a avere più rapporto, di dialogo con le persone del loco, posso conoscere nuove persone. Non mi sento mai proprio solo così, perché intervisto persone, chiedo informazioni, mangio, dormo insieme a persone che mi danno ospitalità e riesco ad avere un po' più rapporto confidenziale, capire i problemi che hanno le persone, ad esempio il popolo siberiano, le sue difficoltà dopo la caduta dell'impero del comunismo, poi ad esempio la differenza di vita, come vivono. Viaggiando da solo riesco a ingranare meglio, vivo l'avventura, assaporò al massimo quello che ci riserva il pianeta. E qual è stata la cosa più emozionante, ma anche la più difficoltosa che hai incontrato in questo viaggio? Beh, la cosa più emozionante è capire il vero significato della vita, perché arrivare in Asia, in Asia è uno stato, è un continente, un'area molto ricca di cultura, molto varia, e lì il popolo è molto ospitale. Essendo molto ospitale ti regala tante emozioni, tante gioie, tante soddisfazioni che qui non sono mai riuscito a trovare. Le difficoltà più grandi che ho trovato sono tante, perché è molto lunga da raccontare i miei viaggi, perché sono anni che viaggio a bordo della mia panda, pensate che ho fatto anche il course to course del pianeta, ovvero dal coste ovest irlandese, sono arrivato fino alle coste est del Giappone, quindi è un course to course del pianeta. La difficoltà più grande, come tutti i viaggiatori, insomma, può succedere, si sta male, si sta bene, c'è la rottura del mezzo, sono scappato a degli attentati, sono stato coinvolto in una rissa, sono stato in ospedale in Giappone, un'infezione via respiratoria mi ha portato a ricovero in ospedale, vicino al Monte Fuji, a Fuji precisamente, la città. Poi sono tutte piccolezze che possono incidere su un viaggio, ma però fa parte dell'avventura. E come mai continui ad aver voglia di intraprendere nuovi viaggi, nonostante queste difficoltà che hai già vissuto? Ma le difficoltà, come ripeto, sono un bagaglio di esperienza. Io voglio continuare a viaggiare per scoprire il mondo che ci appartiene, perché io ho un detto dentro di me che dice, viaggio per capire chi siamo e dove siamo, perché solo viaggiando via terra riesco a capire la realtà del mondo, perché il mondo sembra grande, ma è piccolo. E comunque sono già in programma di un nuovo viaggio che voglio già anticipare brevemente, che poi prossimamente in occasione a Fiera del San Gregorio scopriremo, che sarà in centro Asia e ritorno per il Medio Oriente. Quindi sarà un viaggio molto tosto, molto difficile e molto pericoloso. Allora vediamo insieme un altro pezzettino del filmato Italia-Giappone. All'alba si riparte. Destinazione Hiroshima Seguendo il centro dell'isola fra villaggi e campagne, boschi e montagne, passando per Sayo e Kata Hiroshima, arrivo a Hiroshima. Fra le compatte ordinatevi del centro, tra insegne colorate, segnaletica stradale mai vista e per me incomprensibile, arrivo subito al centro, alla Bomb Dome, dove in quel punto, ad un'altezza di 600 metri, esplose la prima bomba atomica. Il filmato che abbiamo appena visto era una delle più grandi e commuventi situazioni che ho vissuto, cioè entrare a Hiroshima con la mia panda. Una panda targata Belluno che entra in una città dove è passata la storia per la disgrazia che è avvenuta nel 1945. Eh sì, è una città che veramente lascia le lacrime, pensando che ci sono stati 350.000 morti. Nel momento d'ingresso in questa città, sono arrivato subito al centro, cioè sono arrivato alla Bomb Dome, dove è esplosa la prima bomba atomica sul Giappone. Però non mi sono reso conto subito dell'emozione. La stessa sera in albergo ho riflettuto sulla situazione storica, sul passato, guardando il volto scolpito da un passato tragico sui giapponesi, ed è stato molto forte. È una cosa veramente indescrivibile, l'emozione che ho provato lì. Un viaggio in Giappone, passare per Hiroshima, è una cosa che consiglio a tutti, a quelli che hanno la possibilità di muoversi da casa, di passare in questi posti, per capire gli orrori di un passato che non si ripetono più. E come te la sei cavata con la lingua? Ma diciamo, con la lingua me la sono cavata, imparando un po' l'inglese durante i miei viaggi, e ripeto, non è il mio primo viaggio questo, perché ne ho fatti diversi in Europa e quant'altro. Un po' di inglese, un po' si inizia a masticare la lingua del posto, sai, dopo un mese che rimani in Russia con i siberiani, che al di fuori della loro lingua non sanno una virgola, se vuoi adattarti, mangiare, dormire, quant'altro, qualcosa devi masticare, un po' gesti, un po' di difficoltà, ma non c'è nessunissimo problema. La cosa che mi ha colpito di più è arrivare in Giappone, dove nessuno sa l'inglese, pochissimi sanno l'inglese. Lì è stata un po' una difficoltà, anche perché i segni stradali o quant'altro, tutti i diogrammi giapponesi, per me era quasi incompressibile, anche capire come si apriva un casello dell'autostrada in Giappone. Cioè, nessuna scritta occidentale, solo tutto orientale, per me è stato un po' difficile, ma nella difficoltà me la sono cavata. E se avrete occasione di seguire i miei viaggi, capirete come ho risolto le difficoltà varie, come è stata la lingua, come è stato il mio problema in salute e quant'altro. E come ci hai già detto appunto, vuoi ripartire ora per un nuovo viaggio, quindi sicuramente nel tuo futuro vorrai continuare a fare nuove esperienze e di nuovo da solo, oppure questa volta vorrai portarti qualcuno. Ma ci sono molte sorprese che sono ancora nascoste. Nel frattempo stiamo revisionando per bene l'autovettura, la Panda. Non facciamo molte modifiche alla meccanica, ma teniamo abbastanza originale, più possibile. Però non posso svelare questi segreti, perché sono segreti che voglio far incuriosire le persone. Come io sono curioso di scoprire il mondo, voglio far incuriosire chi mi seguirà, chi ha il piacere di seguirmi. Posso solo anticipare che ci saranno quasi 10.000 km di deserto puro quest'anno. Passerò i deserti più caldi del pianeta, ma tutto questo potrò raccontarvi personalmente e potrete seguirmi alla Fiera di San Gregorio il 10 marzo. Allora ringraziamo il nostro snorchi. L'appuntamento è al 10 marzo alle ore 18 al palco dell'antica Fiera di San Gregorio. Intanto voi seguiteci su Facebook, seguiteci su www.valdotv.it e per oggi è tutto, grazie e alla prossima. Anche io ho una pagina Facebook se volete seguirmi. Ecco. WorldPan Expedition o il mio anonimo sito worldpanexpedition.com e per oggi è tutto, grazie e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti